E rieccoci qui, buongiorno amici ed amiche, bentornati sul canale, continuiamo con il video dei prodotti finiti beauty, così abbiamo svuotato tutti i bagni e possiamo ricominciare a riempirli. Molto bene, finito questa confezione di 80 fazzolettini ultramorbidi, 4 veli, conad, io li uso per soffiarmi il naso, pulirmi dagli swatch, come se fossi un espertona di swatch, per togliere il lucido dalla pelle magari a metà giornata se poi devo uscire, quindi me li tampono, sono perfetti, ottimi, il costo è basso, quindi fantastici, sia questi sia quelli che trovo al Tigota, mi piacciono entrambi allo stesso modo. Poi, vabbè, anche qua non è che noi andiamo più di tanto, è finito questo deodorante della DAV, Go Fresh, questo aveva una profumazione molto dolce, molto estiva di frutto della passione, e lemon grass, ma io sento, vediamo, non c'è più niente, il frutto della passione si sente molto buono, protezione ottima, direi quasi sempre i migliori, insomma, e se ne sto utilizzando un altro, non della DAV, ma non è che copra tantissimo, è anche vero che io sono in un periodo particolare della mia vita e quindi, ovviamente, avrei bisogno, praticamente, non so, del calcestruzzo, ma va bene così. Allora, DAV, ottimo deodorante, è anche questo, offerta, li compro solo quando li trovo ed esclusivamente in offerta, perché hanno un prezzo sui 4 euro, quindi anche no. Lucia ha finito due confezioni, sì, due confezioni di cerottini per i punti neri, io li trovo veramente i migliori, sia per qualità, sia per rapporto qualità-prezzo. Sono ottimi, fanno il loro lavoro, hanno un prezzo contenuto, quando ritorneremo al DM, come al solito, ne compriamo 10 confezioni e siamo a posto per un po' di tempo. Maschere ne abbiamo in quantità. Allora, abbiamo la Carcoil Bubble Face Mask, e questa era la famosa Bubble Mask della foto che c'è sul mio video di qualche tempo fa. Ottima, ottima, mi piace un sacco, mi, diciamo, rinvigorisce la pelle con quel senso di frizzantino sulla pelle. E diventate dei panda quando la fate, ma comunque sono buonissime, e queste le ho viste sia da Tigotà sia al DM. Della stessa linea, questa ha l'acido ialuronico e Face Black Bottom Mask. And Carcoil, quindi è il carbone, potrebbe essere giusto. Buona, 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 anche questa, mi è piaciuta tantissimo. Questa invece era una maschera che ha fatto Lucia per i suoi capelli, della serie di quella che le avevo regalato, ottima. Poi ha la cuffiettina a forma di avocado, sono anche carine, cioè con l'anguria, il melone, ci sono altre fantasie. Sono molto carine anche da regalare alle ragazzine. Ottima, 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 questa maschera di Balea in hidrogel. Mi piacciono sempre davvero tanto tutte le maschere di Balea. Mi piacciono, hanno un prezzo bassissimo, quindi Balea online, andate a cercarle perché queste le trovate, e se non avete un DM vicino, secondo me conviene. Questa l'ho regalata io a Lucia, una maschera viso idratante, me l'ho regalata solo perché aveva la faccia del pinguino. Mi piaceva tantissimo. Vedete, poi è così, la maschera è proprio così, è molto carina, molto divertente, insomma. Un momento di relax con una risata. Ed è molto bella. Mamma mia, quante maschere abbiamo consumato qua. Allora, molto buone, molto molto buone. Queste maschere Skin Station, comprate anche queste Aldem in hidrogel. Molto buone, ben imbevute, nulla da dire. Insomma, la maschera è quel piacevole momento che ci regaliamo di relax, e ci regalano proprio un momento di sollievo, di stacco dalla fatica quotidiana. Anche questa ha il veleno d'ape, e anche questa l'abbiamo comprata Aldem. Se io non ricordo male, oppure Altigotà, non lo so, andate a vedere se Altigotà c'è o anche Aldem. Adesso, con tutte le maschere che io ho comprato, francamente, non mi ricordo più. Comunque, poi, andate a cercare e la trovate. La luce sta andando via, no? Adesso ritorna. Va bene, comunque. E anche questa è fatta. Mamma mia, le abbiamo fatte tantissime. Queste due. Vediamo. Balea maschera viso idratante in tessuto, per tutti i tipi di pelle, con estratto di amameli e lampone, per un'intensa idratazione e freschezza. Buone. Passiamo oltre. Questa mi piace tantissimo. C'era anche in giro un altro pezzo? No. Probabilmente l'altro pezzo l'avevo consumato. Al latte e al miele. Penso di sì. Maschera in crema della Balea. Queste della Balea, secondo me, sono buonissime. Oltretutto hanno un prezzo davvero piccolissimo, e una bustina io la utilizzo in due volte. Quindi, se vi capita, se ci passate sia nel negozio fisico che online, queste ve le consiglio tutte. Sono davvero molto buone. Queste sono sempre le stesse maschere che avevo regalato a Lucia, della marca EUNIUL, giapponese, coreana, 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 non giapponese. Buone. Sono tutte buone. Tutte, tutte, tutte buone queste. Anzi, ottime. Poi, finito. Un disinfettante bi-alcol che avrà gli anni di Noè. Ce n'era proprio poco terminato. Ne abbiamo comprato un altro che durerà altri dieci anni. Finiti questi cerotti delicati che Lucia utilizza soprattutto per le unghie del suo pollicione perché purtroppo gli danno sempre problemi, fanno infezione e non sappiamo come risolvere questo problema. Siamo andati anche da un estetista, da una signora che fa la manicura apposta per i piedi, però dobbiamo riuscire a capire come risolvere questo problema perché gli dà parecchio fastidio, soprattutto quando mette gli scarponi per le gite con gli scout. finita questa acqua con questa mist rinfrescante di Codalie, piaciuta? Mia troppo, non tanto. Nel senso che per il prezzo che ha pensavo molto meglio. Allora, se la mist di Essence mi fa la doccia va bene perché ha un prezzo contenuto e ci sta anche magari l'utilizzo d'estate. Da un mist, da un'acqua idratante, dico da lì, pensavo che lo spruzzatore fosse un po' meglio. Qua vi lavate ragazzi, qua vi fate proprio la doccia. E quindi la ricomprerò? No. Assolutamente no. C'è in giro. Per me è molto molto di meglio. Poi, allora, questa era un sugar scrub per il viso alla vitamina C, sempre di Balea, piaciuto sì tantissimo. E questa era una maschera, non vedo però il... penso all'arancia. Questa l'ha utilizzata Lucia, sempre di Balea, ma queste, lo sappiamo, sono tutte buone. Non mi è piaciuta. Non mi piace nessuna maschera di questo brand. Non so se sono sfortunata io, ma io le trovo piccole, scomode, e non imbevute, cioè proprio mi si secca la maschera in tessuto sulla faccia, quindi non mi piace. ne ho un po' in scorta che avevo comprato al Tigotà in offerta, le finirò, ma io non le ricompro più. Sulla mia pelle, cioè, secca tantissimo, e... sono troppo piccole, e scomode come maschera. Cioè, proprio non mi piace. Mi spiace. Qualcuno ha sentito che si trova benissimo, io no. Finita questa favolosa maschera di Garnier, Idrabomb, e queste sono sempre davvero meravigliose. Poi, allora, Neutro Robbers, fresco, zero sali, favoloso. Favoloso al pari del DAV, per me. E quindi ne ho in scorta parecchi di queste, sia della Neutro Robbers che di DAV, ma sono buonissimi. Ogni volta che vado al Tigotà sono in offerta Brum, io ne tiro su due o tre, perché poi ne faccio fuori una quantità micidiale. Molto buona invece questa maschera che ho comprato al DEM, all'acido ialuronico, molto buona, molto ricca, e l'effetto era veramente molto rimpolpante sulla pelle, dava una compattezza alla pelle del viso ottima. Mi è piaciuta davvero tantissimo, questa sì. Poi, anche questa è favolosa, questa è spettacolare. Qui contengono le proteine del latte, queste maschere, non è la prima che vi faccio vedere, queste se io non mi ricordo male le avevo acquistate sul negozio Nuvole Blu di Elisa, sono spaziali, favolosi, rimane tantissimo siero che potete riutilizzare e vi lasciano la pelle liscissima, come se voi avete fatto un lifting, sono davvero, davvero meravigliose. Queste ve le consiglio tutte, buone, 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 le ricomprerò se le trovo in offerta, sì, quando avrò finito la mia scorta di maschere. Finita questa schiuma per rasatura, ha i profumi tropicali, molto estiva, anche queste sapete benissimo, ci troviamo bene, le compriamo e le ricompriamo, sono ottime, io, Lucia le usa solo per rasarsi, lei è molto ligia, io la uso anche come schiuma per lavarmi. Finito questo DAV Go Fresh alla mela e tè, mela e tè, buono, 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 buono. Finita questa schiuma detergente che mi ha stupito, mi è piaciuta davvero tanto, è stato uno dei primi acquisti di skincare che ho fatto ad un prezzo stupidissimo, non mi ricordo se l'avevo comprata su Bioboutique La Rosa Canina o Ecco Verde e mi è piaciuta proprio tanto, era, non vorrei dire una stupidata ma addirittura sotto i 3 euro o una cosa del genere, era anche in offerta, mi è piaciuta tanto con l'estratto di cetriolo, una mousse molto molto leggera ma che non si diciamo sfaldava subito leggera ma pulisce pulisce a fondo lascia la pelle idratata non secca non irrita davvero molto buona questa mousse di albiana fresh and clean è un prodotto bio è un prodotto vegano e quindi questa sì questa ve la consiglio perché è davvero molto molto buona poi finita finalmente 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 questa essence che io ho adorato e amato di Swear alla vitamina B3 e acido ialuronico mi è piaciuta davvero tantissimo ma non finiva più però è veramente molto buona questa è sicuramente uno di quei prodotti che andrà nei top dell'anno perché è stata una delle prime essence anzi la prima essence che ho acquistato ma che mi è piaciuta davvero davvero tanto ottima 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 se la trovate provatela perché è davvero buonissima finita questa crema mani che è una delle mie preferite è la crema mani camomilla della Just se riesco compro sempre queste confezioni più piccole perché finiscono prima e quindi ho la possibilità comunque di scegliere tra più creme mani è comunque una delle creme mani secondo me migliori che ci siano che io abbia utilizzato perché questa ce l'avevo al lavoro la tengo nel cassetto del mio ufficio e la applico una o due volte nelle quattro ore di lavoro rimane la pelle morbida come se avesse un film protettivo quindi quindi vi potete lavare e rilavare le mani e la crema non va via è leggera si assorbe subito ma è davvero ottima la crema mani alla camomilla della Just questa io ve la consiglio anche se costa un pochino questa fa davvero il suo lavoro questo non c'entra niente è passato dentro per sbaglio finito questo olio peeling di balea che io ho trovato meraviglioso adesso ritornerò da balea e due di questi me li tengo in scorta perché è un scrub in olio molto profumato ha un profumo delizioso quindi se non vi piacciono gli oli cioè gli scrub profumati non utilizzate questo perché ha un profumo che vi inebria che rimane nel bagno che vi rimane sulla pelle e quando io utilizzavo questo scrub allora tenete conto che io lo scrub lo faccio come primo step della doccia poi passo il bagno schiuma questo scrub quando usavo questo scrub non ho mai usato poi la crema idratante per il corpo perché la pelle rimane morbidissima e profumata ed è un peccato andare a coprirla con un'altra crema questo per me è favoloso se mi ricordo costava 3,99 euro forse e buonissimo veramente veramente buonissimo questo è da tenere in considerazione e da fare scorta come buonissima questa crema corpo che io ho utilizzato tutta l'estate nonostante sia una crema il profumo è un profumo ad altri tempi un misto tra felce azzurra come tipo di profumazione felce azzurra o nivea una crema leggerissima che io ho utilizzato davvero tutta estate l'ho finita due settimane fa e idrata tantissimo la pelle si spalma benissimo non fa scia bianca mi è piaciuta davvero tanto ne ho un'altra escorta e sono contenta di averla escorta perché mi è davvero piaciuta tantissimo ottimi ottimi prodotti finito questo sapone di biolis nature al cedro è un sapone gigantesco da 200 grammi buonissimo buono 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 questa saponetta mi profuma il bagno questa ce l'abbiamo avuta nel bagno mio e di paolo ogni volta che si entrava in bagno si sentiva il profumo di questa saponetta buona molto cremosa una schiuma molto 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 cremosa che quasi quasi potrei anche utilizzarla per la faccia buona davvero davvero molto buona i prodotti di biolis nature mi stanno sorprendendo perché sono ottimi 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 finita questa gel corpo anticellulite drenante effetto freddo l'ho finita a fine settembre mi è piaciuta? si mi è piaciuta devo dire la verità l'avevo trovata in sconto da Tigotà lascia le gambe comunque molto molto lisce molto idratate ora l'abbiamo già detto in tantissimi altri video queste creme non fanno miracoli il miracolo tra virgolette se c'è il miracolo lo fa il camminare tanto il bere tanto il nutrirsi in maniera corretta e tante altre belle cose che ci diciamo sempre ma non sempre riusciamo a fare devo dire che comunque questa crema ha fatto non andare via comunque ha fatto compattare diciamo la mia cellulite di una certa mi è piaciuta mi è piaciuta effetto freddo si quindi finita ma non ricomprata in questo momento perché perché adesso ho bisogno di caldo e non di freddo comunque anche se non ho bisogno di caldo non ho più bisogno del freddo perché non fa proprio più così caldo come quest'estate comunque sicuramente la potrei ricomprare questa si mi è piaciuta davvero tanto poi finiti questi maxi dischetti di fior di manioglia presi all'euro spin mi piacciono si questi grandi io prediligo i dischetti grandi faccio meno fatica a spruccarmi non mi sporco le mani quindi di qualsiasi marca ci siano in offerta o anche non in offerta perché comunque da euro spin non costano tantissimo questi li li prendo sempre mi piacciono sono buoni abbiamo quasi finito anche questo non mi sono piaciuti non mi sono piaciuti ma forse l'avevo già detto perché li sto utilizzando ogni tanto allora io non mi ricordo tantissimo di utilizzare i peciocchi perché non ho dei grossissimi problemi sugli occhi sì ho un occhio di una donna di 52 anni ma so che anche con i peciocchi non è che fanno a fare i miracoli insomma ma proprio perché mi dimentico ne ho tanti ma li utilizzo una volta ogni 15 giorni una volta ogni 3 settimane ma forse anche anche no quindi adesso dovrò anche ricordarmi di avere di avere questi cioè utilizzo tantissime maschere ma i peciocchi non li uso e non mi sono piaciuti avevano un profumo che non mi piaceva non erano imbevuti si spostavano non rimanevano su li avevo comprati anche questi con la crema che non mi era piaciuta e anche questi 9 ma forse non ci sono neanche più sono di Cosmify e secondo me ci sono in giro prodotti che sono molto 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 più buoni tipo i peciocchi in idrogel di Balea che sono secondo me spaziali anche se li utilizzo poco sono veramente buonissimi allora finita questa maschera all'estratto di betulla favolosa mi è piaciuta da morire non ricordo dove l'ho comprata la marca è Deuitri fritri ve lo faccio vedere bene così poi potete andare a cercarla perché sapete benissimo che non so come si pronunci ma mi è piaciuta tantissimo mi è piaciuta tantissimo il siero mi è durato forse quasi una settimana lo mettevo su tutte le sere ricchissima di siero fresca ottima 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 adesso sembra anche con questa luce che ho i capelli gialli ma non sono gialli buona 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 ho finito questo piccolissimo piccolissimo sample niacinamide della la rocce posè e nonostante sia stato pochissimo io ho comprato la full size e mi sta piacendo tantissimo 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 io ho trovato un beneficio sulle discromie della pelle soprattutto nella zona delle guance dove ho un po' di cuperose mi piace davvero tanto è un siero che ha un certo costo lo trovate comunque con vari sconti in giro per il web ma veramente ottimo 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 mi piace davvero davvero altra maschera di balea e vabbè non ci soffermiamo poi cosa abbiamo finito il fissante per il trucco di revolution base fix io utilizzo sempre un fissante per il trucco per i miei fantastici trucchi giornalieri che ok perché avendo la pelle mista grassa durante la giornata poi appunto esce un po' il lucido e magari mi cola il mascara o la matita o l'ombretto o quant'altro usando il fissante tutto questo non mi succede adesso ho finito questo ne ho in utilizzo uno di nux e poi ne ho preso uno come si chiama quella marca di cosme di neve mi pare neve cosmetics mi ci sto trovando bene con tutti e due quindi va bene comunque revolution fa dei prodotti secondo me ottimi non ho ancora provato nulla per la skin care ma a livello di trucco le mie palette a parte l'ultima parte di questa settimana che ho comprato il mondo di catrice e di essence ma ve lo farò vedere devo dire che le mie palette sono tutte di revolution e io mi trovo benissimo con tutte anche perché i miei trucchi cioè voglio dire io non sono capace cioè non sono capace di truccarmi sono capace di truccarmi per come sono io ma non sono una professionista quindi gioco mi piace giocare non faccio dei trucchi ovviamente eclettici una cosa normale molto molto sottotono e quindi per me anche le palette che non hanno per esempio degli ombretti molto molto carichi molto scriventi per me sono meglio perché poi se vado col pennello e mi rimane su faccio una fatica a tirarlo via e la mattina non è che ho così tanto tempo quindi le palette di revolution secondo me di essence e di catrice sono un ottimo rapporto qualità prezzo io mi ci trovo benissimo con tutte finito questo deodorante di Nivea skin active pearl and beauty 48 ore di protezione buono devo dire anche che non mi trovo benissimo con i prodotti di skin care di Nivea ma con i deodoranti mi trovo bene e mi piacciono un prodotto di make up ragazzi esatto un prodotto di make up penso non esista neanche più labo filler make up un BB cream con 6 acidi ialuronici a diverso peso molecolare SPF 20 non so da quanti anni io l'avessi aperta tra l'altro nei miei trucchi non mi ha mai dato nessun tipo di problema il pao ovviamente è scaduto probabilmente da anni l'ho usata fino alla fine mi è piaciuta mi piace tantissimo il problema che non sono più riuscita a ritrovarla però una BB cream al pari di un fondotinta per me molto molto coprente ma con una copertura molto naturale mi è piaciuta tantissimo peccato sia finita adesso quando ho finito taglierò e tirerò fuori quel pochino che avanza perché è un peccato lasciarla dentro buona 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 finito questo siero lifting eyes serum di nakomi ottimo penso che ne avrete sentito parlare tantissimo io sto utilizzando tanti sieri di nakomi e mi ci trovo bene con tutti dal primo all'ultimo mi piacciono tantissimo è un'azienda che comunque ha un inci buono ha un prezzo ottimo la trovate anche nelle varie offerte sui vari siti e-commerce nel web e ve la consiglio perché è un'ottima azienda e i suoi prodotti sono buonissimi mi piacciono tantissimo nakomi per gli occhi si è finito finita o meglio quasi finita ma non riesco più a farla scendere e non riesco più a recuperarla questa essence molto densa e gelosa di Huxley mi era stata inviata in omaggio da Elisa in un ordine su Nugole Blue mi è piaciuta tantissimo allora secondo me si sente leggermente al momento dell'applicazione l'alcol ma che evapora subito e a me francamente non dà fastidio però se qualcuno ha questo problema l'alcol si percepisce leggermente ma a me è piaciuta tantissimo un'ottima un'ottima essence in gel non vediamo ma non riesco neanche più non riesco neanche a recuperarla non viene più su non viene neanche più giù va bene comunque favolosa buona 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 finalmente adesso ho consumato un po' di essence le avevo finite avevo fatto un ordine il primo di settembre su Stylevana e siccome c'erano due prodotti che non riuscivano a reperire l'hanno spedito ieri speriamo che arrivino in tempi decenti è stato un po' vabbè non avevo urgenza o meglio avevo urgenza delle essence perché io le essence le uso tantissimo sono una parte fondamentale della mia skin care e quindi mannaggia sono dovuta andare a comprare la essence di Codalie ma guardate ehi di cosa succede comunque mi sta piacendo tantissimo la essence di Codalie poi sono 250 ml quindi la finirò chissà quanto però ho fatto buona scorta di essence su Stylevana allora finiti questi bastoncini cotonati cotoneve eco pack se riesco cerco sempre di trovare questi nelle confezioni eco o nelle confezioni di cartone riciclato perché poi ho il mio varattolino che riutilizzo da sempre e e quindi facciamo anche un piccolo favore alla natura finita la famosa mist che fa la doccia di è il good stuff della essence questa è giusto perché non lo vedo più mi pare che sia di essence comunque ne ho altre in scorta queste io le compro le ricompro mi piacciono tantissime hanno dei profumi buonissimi anche se vi fanno la doccia una doccia rinfrescante ottimi 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 e continuerò a ricomprarli mi spiace solo che siano soltanto in queste confezioni piccoline da 50 ml perché io anche se ci fosse 150 ml lo comprerei senza nessun tipo di problema come ultimo ho finito questo profumino di Yves Rocher Yves Rocher ho acquistato alcuni prodotti di Yves Rocher la ragazza che mi li ha portati mi ha gentilmente omaggiato dei profumi siccome adesso sono in fissa con i profumi le ho chiesto se mi poteva dare qualche campioncino loro hanno questi campioncini nel fazzolettino profumato che va bene una volta che me lo sono spalmato lo metto nel cassetto della biancheria così anche la biancheria profuma dopo alla fine si asciuga e quindi lo butto però piuttosto che buttarlo subito nella patumiera una volta che me lo sono messo sui polsi e sul collo lo metto nel cassetto della biancheria così le salviette profumano di buono questo profumo mi è piaciuto plain soleil ed è parfum sto valutando un po' di profumini di Yves Rocher vediamo se c'è qualcosa che posso comprare non lo so ho fatto un ordine ed ho ordinato anche il calendario dell'avvento di Yves Rocher ma lo farò recapitare a novembre quando prenderò un nuovo stipendio fatemi sapere se vi interessa vedere i prodotti di Yves Rocher non li ho ancora testati li sto valutando un attimo a parte le acque profumate che sono quelle che ho utilizzato tutto l'anno per il resto ho davvero tante cose da farvi vedere che ho acquistato non li ho acquistati tutte insieme ma poi i raggruppo rimangono tutte qua adesso devo anche un po' svuotare questa camera hobby che già di per sé è molto molto piena il cesto andone è vuoto ho detto che vuoto non era vero avete sentito anche voi che ha parlato qualcosa dove è andato adesso maria eccolo qua scusate non mi vedete più ricompaio eccomi qua finito questo siero per gli occhi di Mineral 89 allora all'inizio mi è piaciuto e mi è piaciuto tanto mi è piaciuto anche verso la fine ma alla fine mi dava dei problemi mi bruciava qua proprio nella zona perioculare qua sotto e mi ha dato un po' di fastidio quindi al momento non lo ricomprerò più devo essere sincera quest'estate ne ho fatto un abuso mi è piaciuto tantissimo e l'ho utilizzato davvero tanto non so se adesso probabilmente anche poi truccandomi mettendo più ingredienti sulla faccia se c'è qualcosa che gli dà fastidio ma alla fine mi bruciacchiava e quindi non l'ho cioè l'ho finito però al momento non lo ricompro più comunque un ottimo prodotto perché quest'estate davvero l'ho usato tantissimo c'era ancora un prodottino eccolo qua finito il mio mora e muschio profumo delizioso che avevo comprato dalla strega del castello un profumo di mora e di muschio mi sembra di essere poi questi profumi secondo me hanno una persistenza ah ce n'è ancora un pochino allora ve lo dico dai ve lo descrivo così veloce profumo di mora 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 quei bei cespugli di more belli cicciosi belli maturi in estate che però hanno un profumo non troppo dolce quasi un po' asprino buonissimo a me questi ve l'ho detto sono i profumi che mettevo soltanto la sera perché erano solo miei dei profumi molto intimi anche se hanno secondo me sulla mia pelle una persistenza abbastanza duratura mi sono piaciuti tantissimo sto finendo anche gli altri due sono quasi finiti praticamente anche se li sto centelinando e poi vorrei provare delle nuove fragranze di questa di questo marchio perché mi intrigano molto sono molto particolari e mi mi hanno conquistato con questi tre mini size insomma mi piacciono mi piacciono davvero tantissimo finito anche questo questa volta veramente il cesto è vuoto io vi ringrazio vi saluto vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e vi invito a iscrivervi sul mio canale se vorrete rimanere aggiornati sui nuovi contenuti e sulle nuove chiacchierate che faremo insieme piacchierate molto semplici così per toglierci un po' i pensieri che accomunano un po' tutte le nostre vite magari un po' più pesanti un po' meno pesanti quello che dico io è che se ci troviamo qua per rilassarci un pochino è una cosa bella condividiamo delle cose belle condividiamo gli acquisti condividiamo quello che ci piace per il resto i problemi lo sappiamo benissimo che sono alla porta e sono lì ad aspettarci non perché io abbia chissà quale tipo di vita ma perché perché la vita è così i problemi nella vita le preoccupazioni ce li abbiamo già sulle nostre spalle qui ci ritroviamo per rilassarci insieme per passare qualche mezz'oretta a volte anche un'oretta perché la Eli comunque parla sempre tanto ma è così un momento per stare insieme per chiacchierare per condividere le nostre passioni per sorridere insieme e magari anche per ridere un pochino insomma io vi ringrazio vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio ciao e a presto grazie